Il tempo è denaro, diceva l'uomo saggio, e anche se noi ci divertiamo tanto nel momento in cui stiamo realizzando un servizio fotografico, stiamo girando video, qualunque cosa stiamo facendo, più rapidi siamo e più avremo tempo libero da dedicare ad altro che magari ci piace anche di più e più siamo rapidi, più abbiamo guadagnato da quel singolo lavoro, potendo destinare magari altro tempo a fare altri lavori e quindi se un fotografo lento magari fa un lavoro al giorno, un fotografo veloce magari ne fa due o tre. Beh, nel video di oggi andremo a vedere 5 modi in cui possiamo velocizzare il nostro flusso di lavoro nel momento in cui andiamo a realizzare foto per un cliente. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale, io sono Cesare, come sapete mi occupo di fotografia e sono una persona estremamente pigra, per cui oggi andrò a raccontarvi 5 tecniche che metto in pratica quasi sempre per cercare di essere più veloce quando vado a realizzare un lavoro, perché anche se a me piace fotografare, mi piace realizzare il mio lavoro, vi assicuro che meno tempo ci metto e meglio sto, perché ho più tempo da dedicare ad altro, fare palestra, giocare a basket, stare col mio gatto, andare al cinema, qualsiasi cosa. Se io riesco a realizzare il mio servizio fotografico con relativa post-produzione nel minor tempo possibile, ho più tempo da dedicare ad altro e posso scegliere se prendere più lavori o se andare a divertirmi al bar con gli amici. Dal momento che ultimamente al bar con gli amici ci si va sempre di meno, perché gli impegni stanno diventando tanti, io vi chiedo un aiutino, un supporto a questo canale che non vi costa assolutamente niente, basta cliccare il bottone rosso qui sotto per attivare l'iscrizione e se attivate anche la campanella non rischiate di perdervi i contenuti. Inoltre vi ricordo che io cerco di rispondere a tutti quanti, purtroppo qualcuno ogni tanto me lo perdo, se mi perdo il vostro commento, se dopo una settimana non vi ho risposto, riscrivetemi per ricordarmelo perché magari mi è sfuggito. Però io cerco di rispondere e quando posso lo faccio anche con dei video verticali, con dei contenuti veloci, quindi a maggior ragione se siete iscritti non rischiate di perdervi le risposte a qualche commento che potete avermi lasciato. Molto bene, ma partiamo dal primo punto. Sarà una banalità, ma secondo me è essenziale scegliere all'interno della nostra strumentazione, nel nostro parco macchine, parco ottiche, scegliere la cosa più adatta in base a quello che dobbiamo fare. Vi faccio un esempio. Se un mio cliente mi chiede di fargli una serie di foto still life per il sito web e per Instagram, butto lì, probabilmente io prendo la mia 7D dallo scaffale. Non vado a prendere la 5D o la R7, insomma non vado a prendere una macchina da 30 megapixel, che sono veramente tanti, vado a prendere magari anche la 700D. Vado a prendere una macchinetta con 18 megapixel, perché tanto non mi servono i megapixel, perché tanto quell'immagine dovrà essere rimpicciolita, non ingrandita. Quei 18 megapixel non mi servono, probabilmente ne basterebbero 5, e quindi non è assolutamente necessario scattare con una macchina con una risoluzione maggiore, anche perché, attenzione, attenzione, se io scatto con una macchina con una risoluzione molto più ampia, poi ci metto il doppio a fare la post-produzione, perché le immagini sono più pesanti, il mio computer fa più fatica e va più lento, ci metterò più tempo a mandare le bozze al cliente perché le bozze pesano di più, ci metterò più tempo a mandare i definitivi al cliente, lui ci metterà più tempo a scaricarli perché pesano di più, e quindi alla fine, siccome non riuscirà a caricarli dove deve, magari ci metterò anche più tempo io a comprimerglieli perché lui non è capace. Quindi è molto importante scegliere la strumentazione che ci agevoli. Un'altra cosa che possiamo fare per risparmiare tempo, e questo lo sperimento tutte le sante volte, è impostare la fotocamera prima di arrivare dal cliente. Questo per due motivi, il primo è che se abbiamo la macchina già parzialmente impostata dobbiamo soltanto fare l'ultimo fine tuning e siamo già in bolla, mentre se arriviamo lì a me è capitato alle volte di, e non lo faccio più adesso, mi è capitato alle volte di arrivare da un cliente, magari dovevo fare un lavoro di still life, arrivo lì e faccio la figura e gli dico sì, allora aspetta un momento, che per still life devo mettere certe impostazioni, qui vedo che avevo messo 30 secondi di posa l'ultima volta, probabilmente stavo facendo paesaggio, stavo facendo un'altra cosa, aspetta che la rimetto in bolla. Ecco, no, non si fa così. Se sai che stai per fare still life, ti imposti la macchina in maniera tale da arrivare già pronto per fare still life. Poi ci sarà bisogno di una correzione, la fai però, non che devi fare tutta la rotella perché sei a 30 secondi, F22 e ISO 6400, cioè stavi facendo astrofotografia e vai a fare uno still life con le stesse impostazioni, con l'autoscatto magari, così quando scatti c'è l'autoscatto inserito. Ovviamente non va bene, ve ne rendete conto da soli, da questo mio racconto molto folcloristico, bisogna pensarci e mettere la camera già un pochettino in bolla per quello che si andrà a fare, quindi non arrivare davanti al cliente e dover trafficare. Inoltre questo vi fa anche risparmiare tempo perché vi fate un'idea di come lavorerete, avete già uno schema mentale di quello che andrete a fare e lo fate più rapidamente se ci avete pensato. Impostare la macchina prima è come avere già una scaletta di quello che succederà. Una cosa molto importante è avere chiaro sia in testa sia nero su bianco quello che dovrà essere fatto. Io lo so che è difficilissimo chiedere a un cliente di dirci che cosa dovrà essere fatto, perché guardate, fidatevi, io ho clienti piccoli e clienti top, con entrambi si fa fatica fino alla fine a sapere che cosa dovrà essere fatto, perché c'è sempre il cliente che ti dice quando arrivi poi vediamo, c'è sempre il cliente che dice magari facciamo qualcosa in più, magari facciamo qualcosa in meno, è difficilissimo farsi dire le cose da fare sono queste. Io infatti a molti clienti lo dico, a molti clienti dove magari c'è un intermediario o un responsabile, io dico sempre guarda io ti chiedo se è possibile avere la lista delle cose che dovremmo fare e aggiungo lo so che non me la darai, però io te lo chiedo e lo chiedo per iscritto, perché così se ci saranno problemi, se non riusciremo a finire, capisci che non è colpa mia. Io ti ho chiesto di quantificarmi le cose, di dirmi le cose, non do la colpa a te, lo so che non mi farai avere questo elenco perché tu magari lo chiederai al tuo superiore, il tuo superiore non te lo dirà, oppure sarà irreperibile, oppure non ci sarà modo di saperlo, oppure si aggiungerà della roba alla fine, oppure ci sarà una delegazione dalla Svizzera che è arrivata con un giorno di anticipo e allora già che ci siamo facciamo le foto, anche allora insomma io lo so che non si riuscirà mai a fare una scaletta. Però provarci non guasta, perché comunque avere un elenco anche sbagliato di quello che si dovrà fare, poi se ti aggiungono la delegazione della Svizzera di 128 pezzi grossi, tutti quanti che devono fare la foto con le strette di mano, a quel punto tu dici, carta canta, io non sapevo che lo dovevo fare, quindi ci proviamo, però se non ci riusciamo non è colpa mia. Quanto meno cercare di farselo fare è importante. Avere la scaletta ci permette di dire, ok ma se noi dobbiamo fare le foto still life in questa stanza e poi le foto delle strette di mano nell'altra stanza, facciamo prima tutta una cosa e poi tutta un'altra, così lavoriamo spediti quantomeno. Anche questo, io lo so benissimo che non sarà mai possibile lavorare bene in un contesto del genere, perché ci sarà uno pronto per fare le strette di mano alle ore 9 e poi fino alle 11 non ci sarà più nessuno, per cui fatta la prima stretta di mano si va a fare lo still life nell'altra stanza. Poi alle 12 ci sono altri 4 che vogliono fare le strette di mano e allora si smette di fare still life e si torna di là. Purtroppo il lavoro è anche così, però cercare comunque di avere una scansione degli eventi sicuramente ci aiuta. Ci aiuta sia a non dimenticarci niente, sia a lavorare più rapidi, perché quantomeno, e a me è capitato, quantomeno se io so che ce n'è uno alle 9 e poi non c'è più nessuno fino alle 11, io già so che alle 9 facciamo una stretta di mano e poi dopo facciamo still life fino alle 11 o quel che è. Almeno so di che morte devo morire e quindi so come organizzarmi e al limite posso anche pensare di allestire due set per non perdere tempo. Un'altra cosa che secondo me è molto importante è cercare di sistemare la scena quanto più possibile in loco. Perché vi dico questo? Perché è vero che ci sono cose che si possono sistemare in post. Certo, si possono sistemare un sacco di cose in post, però un conto è sistemare una singola foto e un conto è sistemarne 300. Quindi se noi stiamo facendo una singola foto, ma non succede mai, non chiamano il fotografo per fare una singola foto, se stiamo facendo una singola foto e c'è una roba fuori posto nell'angolino, vabbè amen, quella la sistemiamo. Ma se stiamo facendo 300 foto e sono 300 foto dove bisogna sistemare qualcosa, questo è un problema. Questo vale per lo still life, vale per le strette di mano, vale per qualunque tipo di immagine. Quindi nel momento in cui allestiamo un set o facciamo qualsiasi cosa, perché poi è una buona regola da seguire sempre, cerchiamo di avere la scena giusta, cerchiamo di non lasciare filo che passa qui sopra, che si vede nell'angolo, perché non solo perché è brutto e perché è un modo disordinato di pensare e di lavorare, ma perché poi se sono 300 foto sono 300 foto da sistemare. E io non voglio passare la settimana a sistemare 300 foto, preferisco metterci un secondino per togliere l'elemento di disturbo in maniera tale da non doverlo fare. Questo perché sono pigro e perché sono furbo. E sempre sulla falsariga della mia ormai nota pigrizia arriviamo al quinto e ultimo modo per cercare di essere un pochettino più rapidi quando si lavora. Ragazzi, cerchiamo di produrre il necessario, cerchiamo di non produrre un eccesso di materiale. Questo ve lo dice uno che ha prodotto eccesso di materiale per anni, perché tanto è digitale, perché tanto non costa niente, perché tanto sono tutte balle. Non è vero che non costa niente, perché anche se è digitale la nostra strumentazione si usura con l'utilizzo, quindi non è che se faccio tre foto in più a un cliente mi esplode la macchina in mano, però se ogni volta che esco faccio 3000 foto la mia strumentazione durerà molto di meno se ne facessi 300, durerà molto di meno che non se ne facessi 30. Ora, se farne 30, 300 o 3000 soltanto noi possiamo deciderlo. Dobbiamo fare le foto che sono necessarie per soddisfare l'esigenza di quel cliente. Ovviamente l'idraulico quando viene qui da noi non è che pensa che se usa troppo la chiave inglese si consume e poi la deve ricambiare. Fa il suo lavoro e quando la chiave inglese si rompe la cambia. Pacifico. Però non è che lo stesso pezzo ce lo avvita e ce lo svita dieci volte per essere sicuro di averlo fatto bene. Perché la sua chiave inglese si usurerebbe molto prima se facesse così. Allo stesso modo cerchiamo di acquisire la consapevolezza se lo scatto è giusto o se lo scatto è sbagliato. Capita anche a me di ripetere lo scatto. Sono su tre piede magari, ho fatto partire lo scatto automatico e poi do un colpo col ginocchio. E quella ovviamente è da rifare. Oppure peggio ancora, sto facendo lo scatto e siamo sul parquet e il mio cliente è lì nervoso che sposta il peso da un piede all'altro e mi fa ballare il tre piede. Lo redarguisco, lo mando via e rifaccio la foto. Quello è ovvio. Però della stessa posa non ne faccio cento. Conosco la mia strumentazione, so che la fa giusta al primo colpo, se non la fa giusta al primo colpo me ne accorgo perché se è palesemente fuori fuoco o se è successo qualcosa, se è sbagliata l'esposizione me ne accorgo subito. cancello subito quella sbagliata che ho fatto perché non voglio trovarmi a casa a dover dire ok, questa è giusta, questa è sbagliata, questa è giusta, questa è sbagliata. No. Può succedere che una foto che io reputavo giusta si riveli sbagliata a casa ma una foto che io so che è sbagliata la cancello subito perché significa tanto io sono lì dal cliente tutta la giornata magari significa che in quella giornata ho già fatto un minimo di selezione quindi non dovrò riguardarmele tutte anche quelle che sono palesemente sbagliate perché quelle le ho già eliminate e a casa non le guardo più e ho anche evitato di produrre eccesso di materiale eccesso di materiale significa che se sto facendo uno still life dove devo fotografare un telefono cellulare ne faccio una frontale una dall'altra parte una piatta una sull'angolo tutto quello che vogliamo però non ne faccio tre frontali quattro sull'angolo quattro da dietro ce ne facciamo una e cerchiamo di farla bene perché tutto il resto è eccesso e eccesso significa che faremo fatica a scegliere perché magari ce ne sono tre uguali non eravamo sicuri allora ne abbiamo fatte tre uguali una col telefono così uno così uno così cambia quasi niente faremo fatica a scegliere magari le mandiamo anche al cliente e lo confondiamo ulteriormente perché poi gli dice no allora che è la cosa peggiore è la cosa peggiore questa sono belle tutte e tre me le fai tutte e tre? ecco ci siamo dati una zappata sui piedi devastante perché invece di scegliere noi abbiamo mandato in confusione lui le ha viste tutte e tre e adesso le vuole tutte e tre noi tocca post produrle tutte e tre e il prezzo l'avevamo già pattuito all'inizio quindi è incluso capite che non va assolutamente bene evitiamo di produrre eccesso di immagini a meno che non sia per noi stessi e ci piaccia passare la notte a fare post produzione su un'immagine di paesaggio notturno bellissima ma se è per noi è un conto è un hobby ci diamo la zappa sui piedi da soli ma almeno ne siamo contenti con un cliente no con un cliente facciamogli vedere il necessario per farlo soddisfatto e non di più e questi erano i miei cinque metodi infallibili per velocizzare il nostro flusso di lavoro sia che stiamo scattando sia che ci troviamo a scattare per la post produzione sia che stiamo effettivamente post producendo le immagini se seguite questi consigli vedrete che sicuramente i tempi in cui riuscite a produrre uno shooting fatto e finito quindi scatto post produzione consegna si accorceranno notevolmente e quindi siete in debito con me perché avrete molto più tempo per stare al bar con gli amici oppure per prendere più lavori o per fare più foto o andando in posti diversi durante lo stesso tempo che prima avreste dedicato a un singolo shooting vi ricordo a questo punto che la sezione commenti è aperta per chi avesse domande su questo o su altro vi ricordo anche che spesso e volentieri a questi commenti io rispondo con dei video shorts verticali per cui se vi iscrivete non rischiate di perdervi l'eventuale risposta a un commento che mi potrete lasciare signori è stato un piacere passare un po' del mio tempo con voi e io vi do appuntamento al prossimo video grazie a tutti Grazie per la visione!